Qui con c'è il prossimo musano Occito Normalmente ortopedico Facciamo cantare una canzone a Barry allora adesso Tutta lui Se mi soffio il naso ragazzi Mi sposto Non ascoltate Non ho già fatto, non era niente di che Era proprio una roba tanto per Facciamo cantare una canzone a Barry E gliela facciamo cantare però di che tipo? Perché in realtà Noi identifichiamo Barry con La densa anni 70 Ma non è detto Possiamo anche fargli fare qualcos'altro Tanto cambiamo il titolo Anzi intanto Cambiamo qua Facciamo una roba alla Barry Questione di effetto Una cosa alla Barry Dai una roba da Barry Oh Speranzia Ma Ma a me ricorda questa immagine Che poi sarà sicuramente Sembra essere un murales Potrebbe essere una roba un po' anni 70 No? Ma io lo tengo Cambiamo il titolo però Perché Stefano Di Martino Qualche volta tu Santoreggia poco Allo Allo Irraggiungibile votato Quella i batterello Gomena Taralli il forte E i Conjak bravo Che non è Kojak Ve lo ricordate Kojak? L'ispettore Kojak Ve lo ricordate? Comunque i Conjak Bravo Favacui Mucilaginosa e Maginale Spesso dopo Oggi Maramaldo Maramaldo Era Maramau quello Maramau perché sei morto Appoggiare la vitamina Ci consentire Non mi piace però Cioè lo trovo Qua abbiamo un Queen Conce Per esempio Il gavettone obeso Bellissimo Ricordiamo che deve cantarla Barry eh Non so se se la sarebbe sentita Neanche questo Che sembra una roba La Nirvana Figurati Barry Questo era Kreuzberg Nice Che però mi sa Che l'abbiamo fatto Un'altra volta Kreuzberg Nice Sì che era una roba Un po' Kraftwerk No questa è Adele No Questo potrebbe essere Lo sento che comincia Allora ci siamo quasi Siamo pronti Direi Per cantare Ehi konjac Bravo Dalla voce Inconfondibile Inimitabile di Barry White Ehi konjac Bravo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti